Il percorso netto delle ultime tre gare di campionato permette a Licata di volare alto. I Gello Blu salgono a quota 10 punti e si piazzano al quinto posto in solitaria a tre lunghezze dal secondo posto in una classifica cortissima. Alla fine del match con il Santa Croce Camerina vinto grazie a una pregevole doppietta del sempre decisivo Fabio Vennero, Mr. Ramimmo Bellomo non ha trattenuto la propria soddisfazione. «Ho visto un grande Licata», spiega il tecnico, «ogni squadra deve sapersi dare un abito, la nostra ha quello della praticità. Anche oggi la squadra ha costruito tanto e sprecato, come ci era già successo nella sfida di Coppa di mercoledì, ma sono ampiamente soddisfatto. Il Licata è cresciuto molto nelle ultime settimane, inutile negarlo. Lo ha fatto soprattutto grazie a una impressionante solidità difensiva. Le uniche due reti incassate in questo campionato, miglior difesa del torneo, sono arrivate nella trasferta di Caltanissetta. Per il resto, quattro gare senza reti al passivo. Va sottolineata la crescita della squadra, evidenzia Bellomo, ovviamente a beneficiarne anche il reparto difensivo. La nostra fase difensiva parte dal grande lavoro svolto dagli esterni offensivi, che in fase di non possesso palla scendono a dare una mano importante al centrocampo. La scelta, operata dalla società in estate, di puntare sull'esperto tecnico ex Folgore sta dando i suoi frutti. Licata, che domenica, è atteso da un impegno difficile in casa del Macchitella-Gela, squadra a quart'ultima in classifica. Sarà una sorta di esame di maturità per capitani Ignazio Pucci e compagni. Sapevamo che questa settimana sarebbe stata importante per il proseguo del campionato, commenta con soddisfazione il presidente Bruno Vecchio. Abbiamo centrato due vittorie, che sommate a quella col Canicattì precedente alla sosta ci consentono di attestarci in una posizione della graduatoria che inizia a farsi interessante. Bisogna però continuare così già a partire dal match di domenica-Gela.